Sabato 18 novembre 2023 alle 9.30 un flash mob aprirà una giornata dedicata al Servizio Sanitario Nazionale con la mobilitazione SOS Salviamo il Servizio Sanitario Nazionale che vede protagonisti gli ordini professionali della sanità in piazza Santissima Annunziata. L'obiettivo è sensibilizzare la popolazione sui temi della salute a partire dal fatto che la tutela dei diritti dei cittadini in ambito sanitario e socio-sanitario come si legge in un comunicato stampa si fonda anche sul rispetto e la tutela del lavoro delle professioni sanitarie e socio-sanitarie. Dalle 9.45 l'evento proseguirà a Palazzo Medici Riccardi in Sala Luca Giordano con ingresso da Via De Ginori 10 con Insieme per la Salute di Tutti per la condivisione con i cittadini del documento Patto per la Salute che verrà presentato e sottoscritto durante l'incontro. La proposta viene dall'organismo del Consiglio Metropolitano denominato Consulta Permanente delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie che riunisce gli ordini professionali dei lavoratori della sanità con l'appoggio anche da alcune associazioni del Consiglio dei Cittadini per la Salute che condividono il documento AVO Firenze ADV Cittadinanza Attiva Toscana APS Working Class Hero ADV. Sono previsti gli interventi dei componenti della consulta tra i quali il Presidente Delegato Nicola Armentano, degli Assessori Regionali Serena Spinelli e Simone Bezzini, della Rettrice dell'Università di Firenze e di rappresentanti di associazioni in seno al Consiglio Regionale dei Cittadini per la Salute. Fanno parte della consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie l'Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana, l'Ordine dei Biologi della Regione Toscana e della Regione Umbria, l'Ordine dei Chimici e dei Fisici della Toscana, l'Ordine dei Farmacisti di Firenze, l'Ordine dei Fisioterapisti di Firenze, Arezzo, Lucca, Massa, Prato e Pistoia, l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Firenze, l'Ordine dei Medici Veterinali di Firenze e Prato, l'Ordine degli Psicologi della Regione Toscana, l'Ordine delle Professioni Infermeristiche di Firenze e Pistoia, l'Ordine della Professione di Ostetrica Interprovinciale Firenze-Prato, Arezzo, Grosseto, Siena, Lucca e Pistoia, l'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Reabilitazione e della Prevenzione di Firenze, l'Università degli Studi di Firenze, Scuola di Scienze della Salute Umana.